Non capita tutti i giorni che un reparto come quello del dottor Scala, la pneumologia, venga visitato da giovani ragazzi come quelli del liceo Petrarca. Qual è l'occasione? La professoressa di storia ha coinvolto anche la pneumologia in questo percorso in cui nella prima fase i medici sono andati nelle classi a informare su quelle che sono le malattie respiratorie, le cause principali delle stesse, quindi soprattutto battendo sul messaggio della prevenzione, evitare il fumo e seguire i corretti stili di vita. E la seconda parte che è andata odierna è quella della frequenza dei ragazzi all'interno del reparto andando a verificare direttamente quelli che sono gli effetti sulle persone. Come sono sembrati questi ragazzi? All'inizio c'è un attimo di ritubanza, poi dopo chiaramente sono emersi l'interesse, quindi verificare e toccare con mano quelli che sono effettivamente quei problemi legati principalmente al fumo perché come hanno visto nella prima parte dell'esposizione al fumo, nei primi anni non si percepisce nessun disturbo particolare, soprattutto se gli stili di vita sono collegati con una scarsa mobilizzazione, scarsa attività fisica e la possibilità invece di poter vedere sia precocemente i danni dal fumo e sia quando i danni sono molto avanzati, quindi hanno fatto domande su come effettivamente poterli prevenire, cosa fare anche quando la malattia è avanzata, quali sono le strategie per tutelare i polmoni che rappresentano ovviamente come tutti gli altri organi un bene importante per la nostra salute e la nostra vita.